Due giorni di buon cibo, spettacoli, sfida di cucina per la miglior crescia ma anche escursioni in mountain bike, musica e intrattenimento per bambini. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio torna a Montegiano di Monbaroccio la settima edizione della festa della Crescia Secucon. Le cosiddette uova sode accompagnate dalla crescia al formaggio preparata artigianalmente secondo un'antica ricetta. L'evento che attende il pubblico di grandi e piccini è organizzato dall'associazione Montegiano C'è in collaborazione con la Proloco e il comune di Monbaroccio. Abbiamo potenziato di molto la produzione di crescia il cui profumo andrà in tutti i locali della manifestazione. Come tutti gli anni abbiamo a disposizione per i visitatori il servizio di bus navetta, abbiamo due serate danzanti. Inoltre per i più piccoli abbiamo dei giri a cavallo in un percorso protetto e i gonfiabili. Saranno due giornate ricche di iniziative. Il programma prenderà il via sabato pomeriggio alle 16.30 con la seconda edizione Tour dei Cucon. La passeggiata è mountain bike sulle colline di Monbaroccio. Alle 18 invece apriranno gli stand gastronomici mentre un'ora più tardi si esibirà il gruppo folkloristico Limatti di Montecò. Ad animare la festa l'orchestra di Silvia e Fabio. Domenica invece alle ore 9.30 è in programma un'escursione naturalistica a piedi. A mezzogiorno apriranno gli stand mentre alle 15 inizierà l'intrattenimento dell'orchestra Iose Lito. Nel tardo pomeriggio infine non solo si rinnova il gemellaggio con l'associazione Ripalta e i suoi amici ma torna anche la vincente gara per la miglior crescia del comune. Le massaie del posto si sfideranno a colpi di uova e formaggio e una giuria di esperti eleggerà la vincitrice della festa. È una festa diciamo aperta a tutte le famiglie e vi aspettiamo. Nel frattempo volevo ringraziare tutti i ragazzi che ormai operano da diverso tempo, le forze dell'ordine, la protezione civile e tutti coloro che rendono possibile questa settima edizione. Quindi vi aspettiamo, venite anche perché abbiamo comunque posti al coperto quindi in caso di pioggia la gente deve stare tranquilla, il bus non è funzionante. Quindi vi aspettiamo a Montegiano sabato 30 e domenica 1 maggio.